Come ti chiami? Ciao, sono Laura Abade, ho 31 anni, sono di Messina e sono un fabbro all'interno della mia azienda che si occupa di arredamento e allestimento. Come è nata la tua attività? La mia attività è nata incontrando Cristina e unendo la carpenteria metallica e la scenografia. Perché sei rimasta a Messina? Perché ci crediamo e speriamo che prima o poi ci sarà un lancio incredibile della città. Come sta rispondendo la tua città in questo momento? Forse siamo in un momento molto, come dire, ottimista, però secondo me sta rispondendo abbastanza bene agli stimoli, anche perché siamo tante persone giovani. Quindi credi che in questo momento siano i giovani e essere protagonisti della nostra città? Non solo i giovani, ma soprattutto i giovani. Cosa consigli a chi vuole rimanere? Di non lasciarsi andare a livello psicologico e di continuare anche se le prime volte sembra un fallimento. Cosa consigli a chi vuole rimanere?